Allora, doccetta della domenica mattina fatta, non ho fatto il video ieri sera ragazzi perché ero troppo, ero troppo arrabbiato, però alla fine poi non aveva nemmeno senso arrabbiarsi, non aveva più di tanto senso perché è un peccato ragazzi, è veramente un peccato. Ci siamo andati vicinissimi, ma veramente tanto così, ma quando ho letto che Bolelli non avrebbe giocato e che dall'altra parte Shapovalov sarebbe stato sostituito da Ogeli e Sim, beh, le mie speranze sono diminuite davvero, davvero di tanto. Perché ragazzi, beh, sì, io dopo il singolare vinto da Sonego ieri contro lo stesso Shapovalov stavo già iniziando a sognare perché mi aspettavo una sconfitta di Musetti con Ogeli e Sim, ma nel doppio con Bolelli e Fognini la coppia dei chicchi saremmo stati strafavoriti noi. Beh, sì, mi dispiace essere uscito in questo modo dopo le prestazioni incredibili di Sonego, Fognini e Bolelli stesso, beh, perché è come se avesse rovinato tutto il nostro Berrettini, che inserito all'ultimo in una squadra della quale non avrebbe nemmeno dovuto far parte, non ha certo giocato un buon doppio, anzi. Però vabbè ragazzi, di certo non gli si poteva chiedere di più, con Bolelli impossibilitato a giocare per via di una piccola lesione al polpaccio, con un Sonego reduce da tre ore e un quarto struggenti contro Shapovalov e con un Musetti non di certo al top per quanto riguarda il morale. L'unica soluzione era, beh, era chiedere uno sforzo a Matteo, che non si era nemmeno allenato in doppio con Fognini, né tantomeno in doppio in generale, che comunque tornava dopo quasi due mesi, un mese e mezzo, due. Matteo che ha giocato una pessima partita contro degli avversari che non erano certo irresistibili ieri, perché Pospisil è stato molto incerto e molto discontinuo al servizio e era evidente che non avesse tutta questa intesa con Ogeli e Sim, che ha palesato più di una volta le sue non ottime doti doppistiche. E per quanto riguarda questa era una partita che i nostri ragazzi potevano chiudere addirittura in due set, perché le situazioni di 30 pari, di 0-15 su servizio canadese, quindi situazioni in cui specialmente nel doppio si può mettere ancora più pressione all'avversario, beh, non sono mancate. Una marea di errori di Berrettini, spesso simili a sketch comici, è da dire, e beh, ci hanno indirizzato un po' alla sconfitta. Ma ancora una volta, come per tutto questo 2022, vediamo come gli infortuni ci vadano a penalizzare, perché se Simone non si fosse fatto male avrebbe giocato al 100%. E quindi a Volandria è toccato inserire Matteo all'ultimo, ma la situazione con Bolelli e Fognini, beh, ecco, sarebbe stata tutta un'altra, tutta un'altra musica. Peccato, peccato davvero, ma questo è un gruppo che certamente ci porterà almeno una Coppa Davis nei prossimi anni, se non addirittura l'anno prossimo. Io non sono certo che nei prossimi anni la Davis tornerà a casa nostra. Abbiamo visto come i nazionali forti sulla carta, come gli Stati Uniti o la Croazia, facciano poco gruppo e quindi diciamo che in certe situazioni vadano ad ottenere un po' meno, come è successo in questa Coppa Davis, o come è successo anche nella scorsa. E quindi diventano ai miei occhi delle squadre un po' più fattibili, un po' più fattibili sicuramente di squadre come il Canada, che finché avrà gente come Shapo, gente come Ogeo, gente come Pospisil, quindi ancora per un bel po' di tempo, beh, resterà tra le prime tre più forti al mondo. Noi però non siamo da meno, abbiamo due singolaristi di assoluto livello, che hanno ancora ampi margini di miglioramento, secondo me, come Sinner e Berrettini, un doppio fantastico, con un'intesa incredibile, come Bolelli e Fognini, che in futuro, secondo me, visto che comunque sono vecchi, cioè sono piuttosto vecchiotti e quindi sono prossimi al ritiro, potrà essere sostituito benissimo da Vavasori e Sonego. E direi proprio che il migliore in questi ultimi giorni è stato proprio il torinese, monumentale, davvero monumentale contro Tiafoe e anche contro Ciapovalov e ieri. Partite incredibili e giocate su un livello che mi ricorda certamente quello di Roma 2021 e speriamo tanto che diano fiducia e forza a Lorenzo, che dopo aver vinto a mezza è sembrato un po' riscendere di livello. E dunque ragazzi, siamo arrivati ancora alla fine di un'altra stagione di tennis. Stasera ci sarà la finale di Coppa Davis tra il Canada, assoluta dominatrice del tennis a squadre di quest'anno, tra ATP Cup vinta, tra l'Ever Cup vinta con Ogie Alessi in protagonista e quest'altra finale vinta, e la veterana di questa competizione, ossia l'Australia, che vede sicuramente i nordamericani come strafavoriti. Ragazzi comunque noi ricordiamoci che abbiamo una squadra di combattenti veri e speriamo solo che la sfortuna se ne vada un po', se ne vada, se ne vada, che torni un po' di serenità fisica perché ragazzi a questi manca solo quella lì. Io sono Umito e siamo i più forti, dateci tempo. Ciao!